ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono tecnogigi ragazzi se volete seguitemi sui vari social metto diciamo sondaggi cose che potrete vincere sponsorizzazioni in cui posso taggare i vostri profili anche diciamo cose in generale sulla tecnologia ragazzi oggi unboxing di questo power bank allora si spiega un po la situazione io ho perso il mio power bank vecchio per strada stavo con amici in macchina improvvisamente opp essi power bank non so come è successo non mi domandate perché in quale motivo e mi sono comprato immediatamente un nuovo power bank perché io tengo s 9 plus e per avere s 9 plus da due anni con una batteria tra molto poco sicuramente avere un power bank in cui per strada ti ricarica il telefono sicuramente è ottimo ho fatto così velocemente che ho preso questo tipo di power bank volevo farvi vedere la l'unboxing della custodia cosa c'è all'interno allora andiamo aprire la custodia ecco qua all'interno troviamo cavi usb sia sb tipo c cavi usb molto comodi sia anche per l'iphone sia per la samsung e se un altro che utilizzo che otto dalla confezione per ricaricare direttamente il power bank quando andate aprire diciamo la custodia troverete i fili con questo tipo di accessorio poi ci sta anche il manuale delle istruzioni cavolo colungo e manuale ovviamente in cui potete leggere in qualsiasi lingua questo tipo di informazioni una confezione molto curata molto utile infatti all'interno troverete anche queste porta power bank in cui viene protetto chiudete con questa molla in questo modo e così lo stringete abbiamo una porta usb tipo di tipo c per caricare i power bank abbiamo anche la cosa figa abbiamo questo filo che rispetto agli atti power bank esce direttamente in questo modo in cui quando andate a caricare i power bank in questo modo riuscite a caricarlo direttamente con un telefono che ora vi faccio vedere immediatamente con questo telefono però con porta usb tipo normale perché questo è tipo c ormai tutti i telefoni hanno la porta usb tipo c in cui lo mettete dentro e potete tenere i power bank in questo modo veramente molto utile il power bank è da 10 mila miglia ampere poi anche questi prodotti digitali non so a cosa serve specificamente ma ma credo non serve a moltissimo e poi abbiamo anche la possibilità di ricaricare due telefoni contemporaneamente con sia con questa porta sia con la seconda porta infatti 10 mila miglia ampere ricarica l'unica pecca che ha una ricarica molto un po' lenta e abbiamo un 5 watt più 3 watt di ricarica un pochino lenta la ricarica power bank della iniu marca molto utilizzata molto buona e ve lo consiglio vi manca il link descrizione su amazon l'unica pecca come detto solo la ricarica che non è rapida ragazzi con questo è tutto ci vediamo una recensione completa da tecno gg